Come ci siamo impegnati, passo passo seguiamo la realizzazione di questa importante infrastruttura. Siamo arrivati al ripassaggio significativo, la gara è stata fatta, la vita è individuata, avete visto il crono programma tra la firma del contratto fino a tutti i passi successivi, quindi l'avvio dei lavori e via dicendo, quindi quest'opera che ha avuto dei tempi lunghi in termini di maturazione, soprattutto perché a un certo punto sono venute mille risorse, procede secondo i canoni percorsi, chiamiamole ordinari. Qualcuno mi chiede, dice, ma arriveranno i ricorsi, forse quei menagrammi che dicevi prima? Noi speriamo di no, ovviamente, ci dovessero essere, fanno parte della regola del gioco e seguiremo tutto quello che si deve fare con la determinazione di chi vuole realizzare un'opera. Ha detto molto bene un passaggio l'assessore Cesetti, quando ha detto non è un'opera del, semplicemente, nostro territorio, è un'opera che sta dentro una strategia complessiva regionale. Questo ha pienamente senso, questo intervento, infatti, in un caso che ci muoviamo su tutto il territorio e la regione, indipendentemente dal fatto di essere di fermo, piuttosto che di peso, piuttosto che di un'altra realtà, perché quell'assetto è un progetto. Non è un territorio che vuole primeggiare sugli altri perché sarà il primo a fare l'ospedale, unico provinciale, di qualità, così come viene presentato, ma è un elemento di un sistema che necessariamente guarda territorio, strutture per acuti, insieme di scelte che si fanno sul piano regionale. Le reti cliniche, l'ultima parte dell'intervento del dirigente, del dottor Marini, le reti cliniche, avete visto, spesso le reti non sono neanche provinciali, perché il decreto ci dice che questa specialità si può fare con un bacino di 600 mila abitanti, non c'è una provincia delle Marche che raggiunga 600 mila abitanti, oppure altre hanno un bacino di 150 mila, allora significa che delle Marche hanno una certa articolazione, qualche volta a cavallo tra due province. Non parliamo poi del Saresi con i suoi 4 milioni e mezzo di abitanti, dove addirittura supera i confini della regione. Vedete, è una visione integrata che tiene insieme tutte le parti, ma che ha un'estrema necessità di investimenti infrastrutturali. Non siamo all'investimento per l'investimento, il desiderio di fare un'opera nuova, di insegnare, legare il proprio nome a un passaggio importantissimo, quasi storico in Italia quando si fa gli ospedali. Se ne fanno ogni cent'anni, qui diventa storia, in realtà ce ne avrebbero fatti molto più frequentemente e farebbero parte di un'altra mentalità, che è la qualità della gestione. Lui dice, aprirò i nostri meccanismi e storia. Io credo che siamo di fronte a un elemento essenziale dentro una strategia complessiva, dove l'infrastruttura riassume la necessità di portare in spazi adeguati quello che è un servizio profondamente modificato. Il nostro pensiero sugli ospedali credo sia lontano le luci da quello che avevamo solo vent'anni fa. Immaginiamoci quello precedente. Pochi ospedali per acuti, di grande qualità, la concentrazione delle tecnologie, possibilità di rispondere al meglio in termini di bisogno di salute dei nostri cittadini. Rete territoriale che accoglie il prima e il dopo dell'ospedale possibilmente dentro casa. Questo è il disegno complessivo. E noi ci stiamo a pieno, con il coraggio di chi vede prevalere, come ho detto molto bene nella sua presentazione del progetto, la centralità della persona e delle sue necessità. E di un sistema che si organizza per questo obiettivo e non per esigenze interne e non per necessità che hanno altre finalità che non siano la salute dei cittadini. Questo è un po' il senso dell'operatore. Lo facciamo con grande trasparenza, facciamo in modo che tutti i passaggi siano evidenziati, ci mettiamo la faccia, ci prendiamo la responsabilità, chiediamo ognuno di svolgere al meglio il proprio compito, di collaborare, di stare dentro questo percorso. Ci sono degli aspetti a lato molto importanti. Uno è quello che veniva detto, dei collegamenti, di legibilità. È chiaro che la posizione strategica mi hanno fatto degli investimenti per fare sì che il servizio di questa infrastruttura centrale sia il più possibile collegato. Certo, il fatto che la Terza Grossia non ha fatto per intero il suo percorso, oggi è un limite, ed è uno degli elementi che su tavoli nazionali cerchiamo di recuperare. Ma quello che si può fare su scala locale è altrettanto importante, perché queste infrastrutture nuove hanno il piuttosto di essere meglio collocate nella rete della via vita, di avere parcheggio a disposizione, di essere servizio a tutto tutto. Andrà a integrare l'opera anche con il discorso del trasporto pubblico locale, con le gare che andremo a fare, dovremo tenere conto che c'è un'infrastruttura nuova che va servita anche dai collegamenti del trasporto pubblico locale. E in questa visione di sistema non è secondario, lo diceva sempre che una volta abbiamo detto assieme, anche il destino del Murri, nel ridisegno dei servizi. Perché, vedete, qualche anno fa si diceva che si vogliono fare nuovi ospedali perché si vuole speculare su quelli vecchi. La speculazione è morta con la crisi, ma non è neanche passata dall'anticamera del cervello nel passato che stiamo mostrando oggi. Cioè l'interesse è invece riutilizzare, nello stesso tempo in cui realizzeremo questo ospedale, destinare ogni spazio, fare sì che in un tempo estremamente breve, usciti dalla vecchia struttura, lì entrino i servizi che sono importanti e necessari a mantenere vivo quel luogo e dentro questa rete più complessiva che riguarda i servizi di scala territoriale. Ci sono aspetti che con la concentrazione per acuti sono diventati estremamente importanti. Abbiamo detto che la qualità se ne hai pochi ospedali per acuti. Ci stiamo già lavorando e dal prossimo anno il servizio di eleambulanza e di soccorso sarà H24. Una delle due eleambulanze volerà di giorno e di notte così che tutti i cittadini delle Marche, ognuno di un milione e mezzo di questi cittadini che stiano a 100 metri all'ospedale o abitano nella bellissima località di Avandola possono avere in 20 minuti il servizio di emergenza e di soccorso. Cittadini si arriva a tutti, quindi la riorganizzazione non è una scusa per allontanare i servizi, anzi è per darli con maggiore qualità per poi permettere a quel cittadino nei tempi dovuti di avere la prestazione di cui ha necessità e bisogno nell'unica situazione in cui non possiamo scegliere che è l'emergenza. Nelle altre dobbiamo essere bravi noi a rappresentare qualità, a lavorare al meglio, a dare servizi, perché poi c'è la specialità dove il cittadino può scegliere. Certo è più bello poter scegliere ad andare a un luogo come quello, ma quello che conta è veramente poi la qualità di chi ci lavora e come noi ci organizziamo, con quali tempi, con quali modalità e con quale capacità offriamo servizi. Quindi la sfida è per tutto il sistema. Io mi sento pienamente dentro questa sfida, lavoriamo con coerenza, dichiarando gli obiettivi e lavorando per realizzare. Spero che ognuno di noi, tutti quelli che sono qui in questa sala, perché ognuno può portare un proprio mattoncino a questa costruzione. Non è il risultato del Presidente che si illumina del risultato dell'ospedale, è un risultato che dobbiamo sentire ognuno come il nostro. Io chiedo veramente a tutti i presenti, a chi può portare il suo mattone di farlo, perché costruiamo un bene essenziale che è il bene della salute della nostra comunità.